Oltre 30 appuntamenti tra opere, concerti, prosa, danza, cinema, incontri culturali, con in scena grandi interpreti della lirica mondiale. È uno spettacolo clou, i Capoleti e i Montecchi, al Teatro Massimo Vincenzo Bellini, il 23 settembre, che sarà trasmesso tra l'altro in diretta su Rai 5. È il cartellone del Bellini International Context, che dopo l'anteprima del 16 luglio al Teatro Antico di Taormina, si svolgerà dal 1 settembre al 2 ottobre a Catania, nei siti storici della città natale del compositore, promosso dalla regione siciliana, presentato a Catania dall'assessore al turismo Maglio Messina. Context International è un evento che rientra tra i grandi eventi della regione siciliana, nati appositamente per dare un'offerta culturale sia ai nostri concittadini, ma anche a tutti i turisti che stanno per fortuna arrivando in Sicilia. Quindi continuiamo a una diversa stagionalità, continuiamo ad allungare la stagione, continuiamo a offrire, a parte il mare ovviamente nel periodo estivo, offerta culturale in periodi diversi. Abbiamo finito una ventina di giorni fa il Jets, a giugno quindi anche questo in un periodo diverso, a ottobre continueremo con un evento importantissimo legato allo sport, quindi allunghiamo la stagione e soprattutto con offerte di qualità.